Ciao a tutte! Oggi volevo prepararvi una nail art ispirata al piede pugno. Dopo aver applicato la base per proteggere la unghia naturale, vado a stendere una passata di smalto nero su tutte le unghie tranne l'annulare, sull'annulare infatti vado a stendere uno smalto glitterato. Con un pennellino fine e un colore acrilico vado a creare le mie prime linee. Completati tutti i quadratini vado a prendere il mio smalto nero, sempre un pennellino fine, e faccio questi decori. Si tratta di creare due angolini in alto e due gambette alla fine. Grazie a tutti! Per completare l'anell'arte vado ad applicare su un annulare una smalto a pua della L'Oreal. L'anell'arte è finita! Spero che vi piaccia! Ciao! Ciao! Ciao!